Sono oltre 9.300 le persone che hanno comunicato il loro arrivo in Puglia da quando è cominciata l'emergenza coronavirus. Più di 2.500 solo nelle ultime 24 ore. E questo è il dato reso noto dal governatore Michele Emiliano sul numero di pugliesi che hanno compilato il modulo online per autosegnalare il rientro dalle zone del nord Italia maggiormente interessate dall'epidemia. Vale a dire l'intera regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesare e Orbino e poi quelle di Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cuse e Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. In base a quanto contenuto nell'ordinanza firmata dal presidente Emiliano nella notte tra sabato e domenica, le persone che provengono da queste aree, le cosiddette zone rosse individuate nell'ultimo decreto emanato dal governo, sono obbligate ad informare il proprio medico curante e a rimanere a casa in auto isolamento per un periodo di 14 giorni. Il provvedimento è la risposta della regione Puglia al preoccupante esodo di persone che, come nello scorso fine settimana, in massa dalle città del nord si sono messe in viaggio verso sud, rischiando così di far allargare l'epidemia. Il pericolo assolutamente da evitare, come ha più volte sottolineato lo stesso Emiliano, è che un aumento incontrollato dei contagiati possa mandare in tilt l'intero sistema sanitario pugliese. Per questo, in base all'ordinanza regionale, per i soggetti che fanno ritorno dalle zone rosse, vige anche il divieto di effettuare viaggi e spostamenti e l'obbligo di rimanere sempre raggiungibili per eventuali controlli medici. Chi non osserva tutte queste disposizioni commette un reato penale. Il provvedimento, firmato dal governatore Emiliano, viene ribadito anche dall'avvocatura regionale, non impedisce in alcun modo l'ingresso nel territorio pugliese, ma introduce un chiaro obbligo di cautela al solo fine di prevenire la diffusione del virus. Il modulo di autosegnalazione può essere compilato sul sito internet della regione Puglia.